Spettacolare intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Firenze su Ponte Vecchio la mattina del 1 aprile per la messa in sicurezza della copertura di tutto il tratto del corridoio vasariano e delle due porzioni opposte a causa del forte vento della notte precedente. Tutti i laterizi sono stati raccolti e consegnati alla Polizia Municipale per il trasporto alla Sovrintendenza. L'intervento con l'utilizzo dell'autoscala è durato circa tre ore.